ben trovati voi sapete che io non parlo mai di calcio mercato ma qui non si tratta di calcio mercato, si tratta di un argomento molto delicato sul quale è giusto approfondire e sul quale non possiamo passare senza dire la nostra. Il Corriere dello Sport continua a sostenere che Lukaku andrà a Juventus per contrastarlo, la Gazzetta dello Sport e tutto sport dicono il contrario. Sono poi i siti che copiano, gli acchiappaclick che ripetono, perché come esce una notizia poi tutto questo bailan di scopiazzatori per fare soldi click e via dicendo. Io invece ho cercato di approfondire questa notizia, ho cercato di chiamare delle persone, di entrare nell'argomento, perché è troppo anomalo quello che si sta verificando, c'è tutta sta stampa contro l'arrivo di Lukaku alla Juventus. La Gazzetta dello Sport sta facendo cose inenarrabili contro la venuta di Lukaku alla Juventus. Il sistema si è praticamente ribellato all'arrivo di Lukaku alla Juventus. in primo luogo perché con Lukaku la Juventus diventerebbe competitiva nonostante Allegri, perché la Juve è competitiva ma con Allegri rischia il tracollo, con Lukaku è competitiva e rischia anche di vincere. Allora questo atteggiamento atipico, anormale, dicevo anomalo, fuori dagli schemi di contrasto totale ad un acquisto della Juventus, e beh, mi puzza, mi brucia, mi suona strano. Ecco perché ho approfondito. Non si tratta di calciomercato. Ci troviamo di fronte ad una situazione aberrante. Hanno paura che Lukaku torni in Italia e hanno paura che vada alla Juventus. Magari se andasse un'altra squadra il gettito di fango sarebbe minore, ma ci sarebbe lo stesso, attenzione, perché ormai lo hanno preso di mira. E perché lo hanno preso di mira? Questo lo dico soprattutto a quei tifosi della Juventus che fanno tanto gli interisti e poi fanno il gioco degli interisti. Lo hanno preso di mira perché Lukaku avanza dei soldi dall'Inter. L'Inter non ha versato dei soldi a Lukaku. Venitemi a smentire se avete il coraggio e le palle. E allora non avendo versato i soldi a Lukaku, gli 8 milioni dell'ingaggio dello scorso anno non li ha presi tutti. Questo che cosa comporta? Comporta l'apertura di un'inchiesta da parte della federazione è una seria penalizzazione all'Inter. Ma dato che è l'Inter squadra protetta a tutti i livelli, ci troviamo di fronte ad un'alzata di muro, di scudi da parte del sistema calcio, perché come sapete vogliono salvare l'Inter, la Liga Calcio che è l'unione di tutti i presidenti della Serie A vuole salvare l'Inter per i diritti televisivi, per non dare un altro colpo al calcio italiano. L'Inter come sapete è totalmente fallita, ha un miliardo e 300 milioni, fra qualche mese saranno un miliardo e 600 milioni di passivo, quindi aumenta il debito. Sono andati in spazzatura alcuni prestiti, come sapete, per cui a maggio ci sarà una resa dei conti, sotto questo aspetto, ci sono dei debitori che bussano alla porta ed uno di questi debitori è proprio Lukaku. C'era il Manchester United, ma con la cessione di Onana il debito di 4 anni fa, spalmato su 5 anni, fino al 2024, dello stesso Lukaku è stato totalmente azzerato, quindi Lukaku è stato pagato ora al Manchester United. Fra l'altro vi ricordo che mentre Lukaku ancora non era stato pagato, è stato consentito all'Inter di venderlo a 120 milioni al Chelsea, a farselo prestare per 8 milioni, a farsi abbassare da 16 a 8 milioni l'ingaggio, quell'ingaggio che il giocatore belga lamenta. E hanno paura di questo, hanno totalmente paura di questa vicenda, che è una vicenda molto scabrosa, hanno paura che Lukaku parli, hanno paura che una volta arrivato alla Juventus il giocatore possa dire avanzo dei soldi. E la confessione di Lukaku al procuratore federale, attraverso anche i giornali, le televisioni o anche attraverso un tweet, piuttosto che ad un post su Instagram, inviterebbe, no, obbligarebbe la federazione da aprire un'inchiesta. E dato che i conti non sono a posto, qualsiasi cosa si verifica devono andare avanti. E la cosa non può essere pubblica. Certo, io mi rendo conto che i miei video sono un po' particolari, quando vi ho parlato che Marotta è dietro ai pseudo-ultras della Juventus, ve l'ho dimostrato, ma nessuno riesce a dirmi il contrario. Nessuno smentisce queste notizie. Sono notizie chiare, chiarissime, che non leggerete mai, che non sentirete mai gli acchiacchepaclip della Juventus parlano del calciomercato, ma che calciomercato non zanno nemmeno chi li ha creati. Vogliono fare il calciomercato e fanno i pappagalli di Pedulla, di Peduqua, di Marcio e via compagnia bella, falliti tutti quanti nel calciomercato. Per cui tutto questo non lo leggerete nemmeno su Tutto Sport, perché di fatto poi Tutto Sport è un giornale di un editore romano, lo stesso del Corriere dello Sport, che prende dei soldi, dei fondi dalle pubblicità e che non può immettere in rete delle notizie che non vanno bene alla Lega Calcio, che è quella che di fatto poi gestisce tutto. Il Deus ex Machina della Lega Calcio è Marotta, che di fatto è Marotta della Lega Calcio, ma lo sanno bene Scanavino, lo sanno bene i Galliano, lo sanno bene i Maldini, lo sanno bene i De Laurendis, lo sanno bene tutti perché questa vicenda la conoscono tutti. Il bilancio dell'Inter è un bilancio farlocco, è un bilancio dove si sono messi in conto i soldi della Digital Bits, ma la Digital Bits quei soldi non gliel'ha mai dati, quindi c'è un evidente falso in bilancio, ma nessuno va a controllare, oltre al fallimento, oltre ai grandi debitori. Un miliardo e 300 milioni di passivi più un presidente bangarottiero ha salito dai tribunali di tutto il mondo. E' una situazione aberrante, prendono un portiere che ha una clausola di 6 milioni e lo pagano in due lati, 3 milioni e 3 milioni, ma è mai una cosa possibile questa? Cioè vanno alla caccia dei parametri zero, ora hanno preso Audero, dicevano che era una plusvalenza, un giocatore di Marotta del settore giurale della Juventus che fu piazzato alla Sampdoria e che fu inserito nella vicenda delle plusvalenze, però guardò un po', Marotta non venne toccato, non venne indagato, Marotta non viene mai indagato, mai, e lo porta. Le plusvalenze fittizie di Fabian e di Molattieri, che sono chiarissime, come imbrogli, altro che la Juventus paga e la Juventus sono regolari, sono regolari anche le plusvalenze che fa l'Inter, ma perché tu penalizzi la Juventus, gli vai a fare la realtà e non la fai all'Inter, non la fai al Napoli, non la fai al Milan, non la fai a tutte le squadre italiane? E questo è il problema. E poi vengono a dire ci siete sempre voi, per forza, perché il cavamento di culo dei 9 scudetti consecutivi non va giù a nessuno e ancora non va giù. E ancora pensano, come hanno fatto con Suarez, non vogliono far venire Lucaco. E quattro anni fa non venne Lucaco perché, come vi ho spiegato in altre circostanze, Di Bala era gestito da Marotta e Marotta era di fatto il procuratore di Di Bala, dove andò a prendere al Palermo a 39 milioni dalla buonanima di Zambarini, solo che 30 milioni andarono nelle tasche del Palermo, quindi di Zambarini e 9 andarono nelle tasche di Marotta. E pagava la Exor, pagava la casa madre, diciamo tutto, diciamo proprio tutto. Non è voi pensate che noi petteniamo le bambole. No, noi siamo qui per informarvi, informarvi di quello che è successo. Allora Di Bala è stato sempre controllato. Pensate che lo fecero a giocare, andate a vedere, l'ultimo anno a Palermo ha giocato fino alla 22esima giornata in Serie B, poi non ha giocato più, anzi in Serie A. Lo tenevano fuori a Di Bala, Zambarini e Marotta. Ma di cosa dobbiamo parlare? Marotta è del sex machina, sa dove mettere le mani. Perciò vi dico, la questione di Lukaku è una questione molto particolare. Lukaku deve avere dei soldi dall'Inter, perciò stanno bloccando l'arrivo di Lukaku, perciò stanno facendo di tutto finché Lukaku non venga alla Juventus. E non mi meravigli, non mi meraviglio se Lukaku venga fermato proprio dalla casa madre, dalla Juventus, per un intervento della Lega Calcio, perché salta un po' tutto se parla Lukaku. Lo vogliono mandare in Arabia Saudita, lo arricchiscono, lo coprono di soldi, lo fanno stare zitto. Altro che l'Inter voleva Lukaku, poi parla Zanetti, poi parla Moratti, si è comportato così, cioè fanno pure i moralisti, sti delinquenti di merda, cioè fanno pure i moralisti verso una persona... Voi sapete che io non ho nessuna stima di Lukaku, ma da far passare, come vi dissi all'epoca, come anche con Quadrat, un giocatore tra Martin Luther King, dopo che fu fischiato dalla curva sud della Juventus, ha un sacco di merda, di patate, non lo stanno definendo, e cioè mi sembra proprio che c'è una mancanza di credibilità. Ricordate, chi ha visto la live bianconera, la diretta dove stava pure Colpo Gobbo? E dove io spiegavo a Colpo Gobbo e ai due conduttori, spiegavo perché la gazzetta non può e non deve avere credibilità. Dice, vabbè, è vero che la gazzetta ha sparato la cazzata di Giuntoli a Torino, mentre quello era a Forte dei Marmi, l'importante è che poi Giuntoli è venuto e no, perché quel giorno l'aveva pubblicato la gazzetta, tutta la stampa nazionale diceva che Giuntoli era alla continassa, invece si faceva il bagno al Forte dei Marmi. E' la credibilità che non c'è più. Una questione di credibilità, era il 4 luglio, ricordate bene, cosa successe? E quando io a Colpo Gobbo ho detto, guarda attenzione, andare a ripetere le cacate della gazzetta di Agresti, di Pinocchio Albanese, che non è la secca mezza, della Della Valle, solo per amicizie probabilmente, è errato, perché si va a legittimare una, diciamo, un'azione giornalistica di fake news. E allora poi sono vere tutte le cacate che dicono, perché se è vera quella cacata sono, da te la zetta della gazzetta e ti direi credibilità, diceva Colpo Gobbo. No, invece oggi vedo che Colpo Gobbo è costretto anche lui a un torto collo ad attaccare la gazzetta dello sporco. Ma perché è palese? Ma perché è chiaro? Allora perché la gazzetta è portavoce, la portabandiera di questa non venuta di Lukaku alla Juventus? Io credo che Lukaku non sia stato addirittura mai trattato, ma è una mia opinione da tifoso e non serve a niente. Ma che una eventuale voce del genere sia stata così contrastata da tutto e da tutti è chiaro, perché Lukaku deve avere i soldi dall'Inter e l'Inter sarà penalizzata se Lukaku va a confessare. Quelli lo sfottano, cioè Cornut è mazziato, il buon Lukaku. Adesso parliamo di Zaccaria ma vado un attimo in redazione. Mi scuserete, la Juventus pare che sia ufficiale ha ceduto Zaccaria al Monaco. Cosa squallida, giocatore eccellente, un giocatore eccezionale. La società biancorera, dicono le notizie, andranno 23 milioni di euro, bonus compresi. Nell'accordo tra Juve e Monaco però c'è anche una particolare clausola a vantaggio del club italiano. La vecchia signora infatti avrà una grossa percentuale sulla futura vendita di Zaccaria da parte del Monaco. Questo cosa significa che la Juventus crede nel calciatore, che il calciatore è bravo, 23 milioni è un'ottima plusvalenza perché l'hanno pagato 4 milioni, però giocherà col Monaco. e la Juventus ha miletti ancora in rosa. Cioè voi vi rendete conto? Poi dice il centrocampo della Juventus, se Arturo e Zaccaria sono stati venduti, messi sul mercato, dati ad altre squadre, la Juve come va a giocare, come fa a giocare? Perché questo atteggiamento? Perché ancora una volta si dà spazio? Allora se la società chiarisse, dice noi abbiamo venduto Zaccaria perché con una plusvalenza del genere abbiamo bisogno di questi 23 milioni di euro e quindi non ha un ingaggio alto, quindi l'ingaggio serve a poco. Questi 23 milioni sono importanti, laddove verrà venduto avremo anche una buona percentuale, ma lo dice la società per una questione di bilancio, allora messa bene. Perché sapete, ormai si gioca sul bilancio. Ma se questo è stato fatto perché non piace ad Allegri, mi sento bruciare. La cosa mi dà fastidio, la cosa mi rende nervoso, è uno scandalo, è uno schifo che questo allenatore deve bocciare calciatori importanti, nazionali, questo ha fatto i mondiali con la Svizzera, è un centrocampista ottimo per la Juventus, è un centrocampista che può fare tutto il centrocampo, ha i piedi buoni, ha l'inserimento buono, sa fare la doppia fase e la Juve deve tenersi quella, come si dice, quella zavorra di Locatelli e Miretti. Perché così dice questo insensato allenatore. Allora qui si sta sputando sulla storia della Juve, sulla serietà della Juve, sulla validità del progetto. Io mi auguro, mi auguro che Zacarias sia stato venduto per motivi di bilancio, me lo voglio augurare perché mi tranquillizzo. Questo però dovrebbe dire la società, che è particolarmente muta e il mutismo della società favorisce gli acchiappaclic, gli acchiappacloc, gli ipeduqui, ipedullà, tutta sta merda, tutto sto schifo che ci racconta quotidianamente, ci inonda di porcherie, di bugie. Allora la valutazione va fatta in maniera particolare. Perché oggi io sono convinto che Zacarias è andato via perché non lo vuole Allegri. E questo l'odio nei confronti di Allegri accresce. Guardate, io non ho mai, non ho mai odiato, non odio. Però nei confronti di Allegri ho un sentimento di odio, lo ammetto. Lo ammetto perché vedo la Juventus privata di poter vincere, impedita di poter vincere. Da un vigliacco che ha incapsulato la Juventus nel bilancio. E quindi nel suo contratto pluriennale, così gonfio, così ampio, così poco veritiero rispetto alla valenza tecnica del personaggio, dell'allenatore. Un contratto bugiardo che non si sposa con le doti di tecnico, di questo sciagurato, di questo invertebrato, di questa merda di allenatore. Perché si dice, io ho il sentimento di odio, perdonatemi, mi perdona il Signore. nei confronti di Allegri ho un sentimento di odio perché vedo l'ingiustizia, vedo una discrasia tra il reale valore del calcio, della competenza e questo contratto, così ampio, così grosso, così particolare. È una cosa che mi dà fastidio, che mi fa bruciare il culo, vi dico apertamente. È inutile che ci giriamo intorno, ormai mi conoscete bene, sapete come la penso. C'è questa discrasia che francamente mi dà fastidio. Ha un fastidio, è ormai. Un fastidio che mi nasprisce. Ecco, ecco perché è tutto irregolare. Se Zaccaria viene venduto perché non piace l'allenatore, è irregolare, è calciopoli. Cioè non è possibile che un giocatore come Arthur, forte di proprietà, va sempre in prestito perché non piace alla Fiorentina, mentre la Juve tiene Nogatelli, che non è manco un litino così. Si, di Arthur, è il titolare della Juve per me, questa è calciopoli. È calcio scorretto, è calcio spazzatura. Non è possibile. Perciò la società dovrebbe chiarire. Ripeto, c'è un fatto di bilancio, chapeau all'operazione Zaccaria. Ma se è perché l'è una scelta di questo incompetente sulla panchina, allora non mi va bene. Contesto. Contesto totalmente questa scelta, per quello che può valere il mio sfogo, la mia frustrazione di antiallegriano. Ma io non sono contro Allegri come allenatore. Io sono Allegri con... Sono contro la presenza fisica di Allegri nella Juventus. Contro la presenza... Mi dà fastidio la sua presenza. Mi infastidisce. E così c'è un nostro redattore di tuttojuve.net, Danilo Girardi, che fa degli approfondimenti su Allegri. E' un signore anche abbastanza, diciamo, datato come età. Si chiama Danilo Girardi. Andate a leggere cosa scrive su tuttojuve.net. Di Allegri. Qui c'è un'armata. Qui c'è un popolo contro Allegri. Qui c'è una tifoseria contro Allegri. Lui è in paradiso a dispetto dei santi. Lui non merita di sedere sulla panchina della Juventus. E' uno squallido. Adesso abbiamo parlato di Zagaria. Ma avremo modo di parlare. Che saremo qui a commentare tutte le porcherie di questo uomo. Come le tre partite che ha fatto la Juventus. Titolari Locatelli e Miretti. Ma con Locatelli e Miretti non si va lontani. Andate allo stadio. Andatevi a fare i selfie. Andatevi a fare i selfie allo stadio. Poi andate. Invece di contestare quella monnezza. Andate a fare i selfie. I selfie. Andate a farvi riprendere. Invece di contestare l'anti-juve vero. Che è Allegri. Il vero anti-juve è Allegri. Ecco perché l'operazione Zagaria. Mi fa riflettere. Come quella di Arthur. Cioè due giocatori che in questo centrocampo. Avrebbero potuto far crescere. Certo. Arthur è più eccelsi. È un fuoriclasse. Zagaria è un campione. Non sarà un fuoriclasse ma un campione. In questo centrocampo dovevano crescere. Dovevano dare spunto al centrocampo. Dovevano creare anche le condizioni per una concorrenza. Invece no. Invece si tiene McKennie. Sapete perché si è tenuto McKennie? Che è bravo eh. Attenzione. McKennie è un buon giocatore. Un allenatore bravo però. Si è tenuto McKennie perché all'occorrenza lo fa giocare quinto a destra. Dove non ha il passo. Non ha l'impeto. Non sa fare la doppia fase. Lui lo mette quinto a destra. Lui lo vede in alternativa UEA. Vedrete. 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 Si va dallo stadio a farsi portavoce anche di noi che siamo tantissimi. Non lo vogliamo questo incompetente sulla panchina. Mi fermo qui. Mi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vesicchio ad attivare la campanella delle notifiche e mettere un like se lo ritenete opportuno e lasciare naturalmente un commento. vi dico subito che i commenti pro allegri, vabbè che sui miei social sono pochi, li cancello. Anche quelli che si avvicinano, anche quelli che non lo nominano proprio di accordo li cancello. Perché dove sono io non deve mai passare un messaggio pro allegri. Questo è un canale anti allegri. Questo è un canale pro Juventus e anti allegri. Alla prossima. Alla prossima.